Signori e signori buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo video a mio parere, a mio avviso, pregno, pregno di valore perché vi dico questo? Perché già ovviamente io sono l'argomento di cosa sto per parlare ma anche voi che l'avete letto dal titolo penso quindi se avete cliccato vi invito a continuare ad ascoltare perché ho sentito da molte persone che conosco il quale ho fatto alcune consulenze sempre la stessa tiritera, sempre la stessa polemica senti Fabio ma mi si può aggirare le piattaforme perché sai le commissioni che dobbiamo dare di qua di là sono sempre alte mi toglie una parte del margine e bla 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 e sempre le solite storie, sempre la solita mentalità diciamo, a mio avviso italiana, per trovare Scamotage la via più semplice e fregare chi che sia comunque mi presento, sono Fabio Rosia per chi non mi conoscesse un giovane imprenditore che ha svariate attività in vari settori come anche appunto questa di case vacanze pubblicate poi su Airbnb e Booking ovviamente non sono mie di proprietà ma ho un normalissimo contratto d'affitto e poi le destino, le appartamenti che prendo sulle varie piattaforme per case vacanze ho fatto un video dedicato a questo tra la sublocazione e la gestione degli appartamenti diciamo le due declinazioni che si possono avere da questo business vi invito a vederlo per avere un po' le idee meglio, più chiare perché adesso l'argomento di oggi non è proprio questo quindi si potrebbero intrecciare un po' le cose come dicevo appunto ho diversi appartamenti che gestisco sulle varie appunto piattaforme, le OTA che sarebbe un acronimo di Online Travel Agency possiamo anche dire che sarò ormai dei pilastri dell'industria del viaggio moderno per chi viaggia e va in vacanza passano ormai tutti per Airbnb, Booking, Wario e tutte le altre piattaforme io ho preso un po' di appunti perché sono svariate le cose che vorrei dirvi che vorrei sviscerarvi perché sennò qua facciamo solo un'inserata di parole e non ci capiamo più niente questo video per dirvi che secondo me la collaborazione che si deve avere con queste OTA è solo che positiva perché uso collaborazione perché queste piattaforme mettono per noi in contatto i viaggiatori con i nostri servizi gratuitamente perché sono piattaforme il quale iscriversi è totalmente gratuito e chiedono in cambio solo una percentuale al momento solo delle prenotazioni che riceviamo punto finito ovviamente così l'ho un attimo banalizzata e l'ho ridotta ai minimi termini la cosa comunque adesso voglio citarvi alcuni vantaggi per avere un attimo anche le idee più chiare di quanto sia vantaggioso collaborare con queste OTA partiamo subito da un'esposizione globale signori cosa vuol dire? collaborare con le OTA offre un accesso immediato a un vasto pubblico di viaggiatori provenienti da tutto il mondo e penso che questo sia più che oggettivo perché se pensiamo di avere un'occupazione massima delle nostre strutture tramite semplicemente un passaparola è impensabile questo è impensabile perché comunque abbiamo sicuramente un campo ridotto di amici di comunque persone vicine a noi che conoscono la nostra struttura mentre la piattaforma è una vera e propria vetrina sul mondo intero quindi su 9 miliardi di persone se siamo arrivati a 9 adesso non mi ricordo però penso siamo 9 miliardi di persone questo fa sì che possiamo rivolgerci a varie fasce di prezzo perché comunque se nel caso ci dovessimo rivolgere semplicemente la nostra schiera di amici sappiamo perché lo sappiamo quanto potrebbero spendere mentre se ci dovessimo rivolgere a tutto il mondo sicuramente potremmo rivolgerci anche a fasce altospendenti di clienti e quindi massimizzare le entrate aumento della visibilità come appunto ho detto essere presenti tutte le piattaforme significa avere potenziali clienti che cercano servizi online da tutto il mondo quindi essere visibili ma allo stesso tempo essere online si sa che ormai siamo sempre col telefono in mano col computer e si prendono ormai si prenotano viaggi solo esclusivamente tramite il computer o il cellulare ad esempio Booking sta incentivando molto di più per chi mette degli annunci su Booking e offre la possibilità degli sconti per chi prenota la cellulare gli dà molta più visibilità quindi si sta andando anche verso questa edizione perché appunto stiamo sempre col telefono in mano e quindi facendo così riusciamo a velocizzare anche i processi di prenotazione mi collego terzo punto facilità di prenotazione cosa vuol dire tramite le varie piattaforme semplifica il tutto perché e adesso vi dirò anche un piccolo trucco chiamiamolo così a fine video di perché si facilitano le prenotazioni ma facendo appunto un piccolo trucchetto però adesso non voglio un attimo intercione le cose non ci chiamiamo più niente ovvero quindi facilità di prenotazione si sa che col telefono come ho detto prima con un semplice click possiamo bloccare qualsiasi appartamento qualsiasi immobile in qualsiasi parte del mondo in un semplice click successivamente andando avanti cosa abbiamo abbiamo delle recensioni il quale possono lasciare i clienti per le nostre strutture questo cosa fa con delle ottime recensioni sempre qui ci sono delle strategie per aggiungere avere ottenere delle recensioni 5 stelle quindi una volta ottenute così riusciamo a creare una reputazione delle nostre strutture e sicuramente se più è alta la nostra reputazione più poi riceveremo prenotazioni quindi è anche questo un vantaggio positivo mentre se nel caso dovessimo parlare del nostro appartamento sicuramente noi siamo di parte il più bello il più luminoso più tutto quello che volete mentre se lo dicono gli altri clienti che hanno viaggiato presso di voi sicuramente un cliente sarà più propenso a prenotarvi appunto perché sente la voce di molte altre persone e oggi come oggi si sa che si vive di recensioni quindi come anche Amazon o anche altre piattaforme le recensioni sono fondamentali quinto punto altro se non è molto importante è la facilità di gestire il calendario le piattaforme ci danno tutti gli strumenti come appunto anche il calendario da visionare in qualsiasi momento per controllare le occupazioni e i vari prezzi che anche lì cambiando i prezzi in base alla stagionalità si riesce a ottimizzare l'occupazione cercare sempre di avere un'occupazione massima tenendo sempre sotto controllo i vari calendari delle strutture grazie sempre alle piattaforme cosa che invece io ho constatato molte persone che lavorano un po' passatemi il termine all'antica ancora con agende programmini che ogni volta devi accendere che non si aggiornano non caricano o anche il semplice Excel che se non lo si sa usare è un casino mentre loro fanno tutto per noi dobbiamo solo aprirlo controllare cambiare i prezzi e nulla stare lì attenti a vedere un po' le varie prenotazioni che arrivano e infine sesto punto ovviamente ci sarebbe un'infinità ancora che potremmo dire però se noi questi sono tra i più importanti sesto punto ci danno accesso a tutti i dati e analisi delle nostre strutture quindi avere tutti i vari dati delle strutture come ad esempio visualizzazioni quante prenotazioni abbiamo ricevuto in un certo periodo quante richieste ci sono state e via dicendo comunque una serie di dati che noi adesso non riusciremo a tenere traccia perché appunto sono una molla di dati infinita quindi per concludere secondo me a mio parere questa collaborazione va solo che incentivata e non trovare le scamotage per trovare altre soluzioni per non pagare questa piccola commissione perché fondamentalmente ci chiede una piccola commissione Airbnb o Buggy perché se nel caso voi dovesse provare a fare una campagna di marketing o di pubblicità a spese vostre vi posso assicurare per esperienza personale vi se ne andrebbero migliaia e migliaia di euro e non vedreste sicuramente un riscontro pari alla vostra spesa o perlomeno se la dovesse vedere nel lungo periodo quindi non si vanno a spendere 1000 euro per una settimana per una campagna pubblicitaria e subito la settimana dopo si hanno delle prenotazioni per 2-3 mila euro scordate perché questo è impensabile mentre loro si occupano di tutto tant'è vero adesso anche su tante reti nazionali si vedono le pubblicità di Airbnb se non mi sbaglio di continuo solo questo è un vantaggio competitivo infinito nonostante noi non cacciamo un euro perché sono piattaforme totalmente gratuiti per concludere per facilitare le prenotazioni una cosa che ho notato di errore che fanno in molti e non avere la prenotazione immediata attiva cioè cosa vuol dire se io dovessi effettuare una prenotazione per motivi di lavoro viaggio qualsiasi accedo a una di queste piattaforme clicco l'appartamento che mi è piaciuto che ho controllato e mi dice non puoi prenotare fin quando il proprietario non ti accetta o il proprietario non ti dà l'ok io sinceramente non dico che mi spazientisco però io ho bisogno di quell'alloggio ho bisogno di togliermi dalle scatole la problematica di aver trovato un alloggio per quel periodo e quindi se non mi dai la possibilità immediata di prenotare io dico vabbè sai che vediamone un altro tanto ce ne sono migliaia di annunci e ne scelgo un altro e te che non avevi la prenotazione attiva hai perso la prenotazione e quindi che succede molte volte si dà colpa alla piattaforma che non funziona e non arrivano prenotazioni però se andate a vedere se avevi la prenotazione immediata attiva cosa secondo me è molto importante perché oggi come oggi viviamo in una società molto molto di fretta quindi io voglio una cosa la vedo la prendo e la compro basta guardare il modello di business come Amazon che quando si compra un articolo il giorno dopo già ce l'abbiamo a casa non vogliamo più aspettare infatti col famoso Prime si clicca si compra un articolo e in alcune città nel giorno stesso si riceve e quello è sicuramente un punto di forza di queste grandi big company come Amazon che sono delle big company signori il video è durato anche troppo perché adesso ho un check in da fare ho degli ospiti che stanno per arrivare quindi possiamo concluderlo anche qui mi raccomando continuate a seguirmi per tutti questi altri video che secondo me sono molto molto di valore e sono gratuiti perché molte persone mi pagano in consulenza per sapere tante di queste cose però ovviamente ve le regalo con questo chiudo ci vediamo al prossimo video ciao ciao